Ciao a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento sul codice dei contratti pubblici, io sono Maria Rosaria Russo, sono responsabile del progetto dell'assistenza tecnica FSC 2020 e vi do appunto il benvenuto a questo incontro che abbiamo organizzato proprio in concomitanza con l'avvio, con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Sono qui appunto presenti diversi esponenti dell'assistenza tecnica FSC 2020, gestiamo appunto l'assistenza tecnica da Regione Abruzzo da diversi anni e quindi il docente che appunto terrà oggi questo incontro così anche come l'incontro della prossima settimana e qui diciamo all'atere insieme a me ed è appunto il dottor, l'avvocato Giovanni Maria Caruso che anche si adopra tra virgolette laddove ci siano delle richieste specifiche puntuali su tutta una serie di attività e di fascicoli che noi appunto quotidianamente gestiamo con l'assistenza tecnica presso i servizi regionali. In questo momento ci sono appunto 47 partecipanti che si sono collegati, aspettiamo due o tre minuti che appunto si colleghino anche altri colleghi che si erano iscritti, la sessione di oggi è videoregistrata e verrà messa a disposizione inizialmente appunto sul sito di eventi. Poi abbiamo appunto iniziato a programmare queste attività però poi con la concomitanza delle ferie abbiamo deciso poi di programmare ulteriori giornate formative e informative il prossimo settembre. Quindi a settembre arricchiremo questo calendario con ulteriori sessioni. Quindi anche a valle di questo incontro tramite la nostra mail piuttosto che tramite le nostre antenne presso di voi cioè appunto i colleghi dell'assistenza tecnica se volete potete farci pervenire delle segnalazioni, delle indicazioni di approfondimento noi ne vaieremo e proveremo poi a stilare un'integrazione a questo calendario iniziale che sia appunto il più vicino possibile poi a quelle che sono le esigenze dell'operatività. Non per ultimo appunto questo percorso si chiama percorso di affiancamento e aggiornamento perché alla luce comunque di quelle che sono anche i principi che sono stati eh aggiornati eh che appunto sottendono il codice dei contratti pubblici abbiamo definito il calendario su una serie di aspetti che sono sicuramente i più interessanti. Quindi eh appunto gli affidamenti sotto soglia piuttosto che appunto la nuova figura di responsabile unico del progetto. Eh però appunto sicuramente ci sono diversi altri temi che sono di interesse che sono il pane quotidiano di chi lavora eh sugli interventi a valere sulla sui fondi eh sul fondo sviluppo e coesione quindi è importante anche avere da voi un feedback eh su quelli che sono i temi diciamo più caldi. Quindi per questo motivo eh è utile anche un confronto con voi eh su questi temi. Eh l'avvocato appunto proverà a rispondere anche a quelle che sono le eh domande che voi porrete nel corso del webinar. Quindi eh inserite in chat tutte quelle che riterrete eh possano essere domande che voi vorrete sottoporre. Eh in modo che lui possa poi anche in sede in questa sede dare eh un riscontro. Eh vi ricordo che appunto il prossimo incontro è mercoledì prossimo sempre alla stessa ora. Eh poi con il mese di settembre eh sistemeremo tutti questi materiali in piattaforma eh formativa eh e proveremo anche eh a verificare mh la l'apprendimento di queste tematiche tramite sottoponendovi anche dei dei test, dei quiz di autovalutazione eh che sono sempre appunto utili proprio per per mettersi un po' alla prova eh su queste tematiche. Allora io diciamo ho provato a prendere un po' di tempo per vedere se altri colleghi si eh univano a questa a questa giornata. Vedo che siamo arrivati a cinquantadue partecipanti. Quindi eh bando diciamo alle cianze, lascio la parola appunto all'avvocato Giovanni Maria Caruso che appunto vi illustrerà eh come ha impostato le due giornate eh diciamo formative, quella di oggi e quella della prossima settimana e poi darà il via appunto al al all'incontro di oggi come da programma. Buongiorno Giovanni, grazie e ti lascio la parola. Grazie mille eh Maria Rosara, buongiorno eh buongiorno eh a tutti. Eh già la dottoressa Maria Rosara ha anticipato insomma l'obiettivo di questo webminar è di fornire un primo approccio eh diciamo sul contenuto di questo nuovo codice dei contratti pubblici che è stato recentemente adottato con decreto legislativo al trentasei del duemila e ventitré. L'idea è stata quella di suddividere ehm questa eh questa attività formativa in due giornate eh che cercheranno di affrontare alcuni quelli che dovrebbero essere almeno gli argomenti, alcuni degli argomenti trasversali a tutto eh il codice e altri argomenti che possono essere quelli eh che potrebbero avere una più immediata esigenza operativa eh ossia quello eh prevalentemente il discorso sugli affidamenti eh sottosoglia. Allora vado eh in questa quindi in questa prima giornata affronteremo diciamo la parte relativa ai principi dove eh tratteremo della genesi e della struttura di questo nuovo codice eh dei contratti pubblici un quadro schematico su alcune delle principali novità eh che caratterizzano eh questo nuovo approccio e eh poi eh ci soffermeremo più nel dettaglio sui principi eh con un occhio di eh particolare riguardo a tre principi che sono eh considerati come gerarchicamente superordinato sia il principio del risultato eh quello della fiducia e il principio eh dell'accesso al mercato nonché altri principi che comunque concorrono all'applicazione eh della eh della disciplina e proveremo anche a eh fare delle valutazioni diciamo su eh un proprio sull'approccio complessivo che scatolisce da questa nuovo eh da questo nuovo processo di codificazione. Nella eh giornata successiva nella prossima giornata che si terrà a mercoledì prossimo eh invece ci concetteremo un po' più nel dettaglio sugli interventi di semplificazione e eh guarderemo proprio alla disciplina delle soglie eh e degli affidamenti sotto soglia che eh diciamo è la parte un po' più innovativa del del codice perché ripropone quella stessa logica eh della disciplina emergenziale che aveva caratterizzato i primi approcci, le prime misure che erano scatolite eh al eh al contesto post-pandemico e quindi all'applicazione del eh del PNRR e alle esigenze di relativa eh esecuzione. Allora se non ci sono obiezioni eh io sarei dell'idea di eh suddividere questa questo primo incontro in due fasi nel senso di eh fare una breve pausa eh diciamo a metà eh di queste due ore anche per favorire magari qualche eh domanda che potrebbe perdersi se no durante lo svolgimento eh lo svolgimento della lezione. Quindi ehm se durante questo webinar eh riesco contestualmente a raccogliere qualcuna delle vostre informazioni proverò a rispondervi in immediato. In caso contrario ehm proveremo dopo la pausa una piccola pausa a eh eh dedicare un tempo per la risposta a qualche domanda. Allora perché l'esigenza di eh questo webminar eh su eh questo nuovo codice? Com'è che è importante un processo di codificazione e perché? Eh allora ciò è eh legato prevalentemente a eh l'evoluzione della disciplina della contrattualistica pubblica e ehm probabilmente una parte eh di sull'evoluzione della disciplina della contrattualistica pubblica eh già io l'ho eh esaminata sempre all'interno di questo progetto e già alcuni tratti essenziali di questa disciplina, dell'evoluzione di questa disciplina sono stati eh sono sicuramente noti e sono eh comunque riassumibili in alcuni passaggi fondamentali eh nel senso che originariamente la disciplina sulla contrattualistica pubblica nasce come una disciplina asservita all'interesse dello Stato e della pubblica amministrazione. L'obiettivo principale di questa disciplina è quello di tutelare gli interessi finanziari dello Stato. L'interesse dell'operatore economico che concorre per l'affidamento appunto di una determinata commessa pubblica è un interesse che eh rileva solamente occasionalmente perché l'interesse prioritario e protetto dalla disciplina è quello di garantire sia l'esecuzione appunto del contratto e sia l'esecuzione, l'ottenimento della miglior prestazione eh eh possibile. Quindi l'interesse dell'operatore economico che concorre all'interno di una procedura di caga eh per l'affidamento di una eh commessa pubblica è un interesse occasionalmente protetto eh eh occasionalmente protetto perché prioritario sempre l'interesse dell'amministrazione a spendere di meno e ottenere la prestazione eh più funzionale alle proprie esigenze. Questa che è una razio abbastanza elementare della disciplina eh sulla contrattualistica pubblica cambia eh significativamente con l'avvento della disciplina europea. Perché eh proprio per ragione eh del processo di integrazione europea eh europeo questa disciplina che prima era eh diciamo proiettata unicamente sugli interessi eh dell'amministrazione incomincia a diventare destinataria di altri obiettivi. Ossia eh la comunità europea e poi l'unione europea si incominciano a rendere conto che il settore delle commesse pubbliche è uno dei settori economicamente più rilevanti eh per eh e che potrebbe essere utilizzato come volano eh per l'istituzione per l'avvio effettivo di un mercato unico. E quindi questa disciplina eh viene contaminata da interessi diversi interessi alieni a quelli di ogni stato membro che è l'interesse a quello a sviluppare la concorrenza, creare una concorrenza anche in settori in cui eh potenzialmente non era presente. Questo perché si riteneva che fosse un passaggio per creare il mercato unico bisognasse necessariamente transitare appunto eh per la disciplina dei contratti pubblici perché costituiva anche sotto il punto di vista economica una disciplina di estrema eh estrema rilevanza. Eh e eh proprio in base a queste eh esigenze che erano merse nel contesto europeo eh questa disciplina quindi non è più asservita agli interessi finanziari economici eh o comunque alla sola esecuzione della prestazione richiesta dalle amministrazioni ma è sempre più proiettata alla tutela di interessi diversi quale quello del mercato. E eh proprio alle direttive eh dell'Unione Europea si collegano i primi processi eh di codificazione. E il primo processo di codificazione che ha riguardato la ehm contrattualistica pubblica noi lo possiamo rinvenire nel decreto legislativo 163 eh del 2006 che è un decreto legislativo il primo codice dei contratti pubblici il cosiddetto codice delise che aveva come obiettivo e come caratteristica predominante quella di riunificare varie discipline settoriali perché fino a quel momento fino al 2006 ognuna delle discipline relative ai lavori servizi e forniture era stata oggetto di una trattazione eh separata. C'era una eh c'erano direttive separate per lavori per servizi e forniture c'erano dei corrispondenti decreti legislativi che operavano il recepimento appunto di queste direttive. Talvolta anche con misure un po' eccessive rispetto alle esigenze eh poste dal eh dalle istituzioni europee. E qui è emblematico il caso della disciplina sui lavori pubblici dove la vecchia legge sui lavori pubblici la legge Merroni eh prevedeva spesso delle condizioni eh di promozione della concorrenza e un appesantimento degli oneri procedimentali ancora maggiore da quelli di quelli previsti dalla eh disciplina europea. E questo era dovuto prevalentemente a ragioni di carattere storico perché quella disciplina era frutto non solo delle eh direttive europee in materia di lavori pubblici ma anche di un particolare contesto eh culturale in cui eh si usciva da un fenomeno di mani pulite e bisognava caricare la disciplina di una serie di oneri aggiuntivi unde evitare che il contesto delle eh dei lavori pubblici potesse ancora una volta pericolare dei fenomeni corruttivi. E quindi diciamo la disciplina eh sui contratti pubblici è sempre eh ha sempre eh diciamo si è sviluppata parallelamente con una disciplina di contrasto ai fenomeni eh corruttivi. Però si è progressivamente evoluta eh proprio in funzione dell'ingresso degli interessi eh extranazionali eh o meglio non direttamente di pertinenza del livello territoriale e statale ma imputabile alle istituzioni eh sovranazionali che erano l'esigenza eh di eh promuovere la concorrenza all'interno di determinati settori come passaggio essenziale per l'installazione di un mercato unico. Questo eh queste esigenze sono quelle che hanno eh diciamo che sono alla base del processo di codificazione del eh 2006 in cui per la prima volta viene riunita in un'unica disciplina eh delle discipline settoriali e eh successivamente a questo eh processo di codificazione eh si è avuto un altro un secondo processo di codificazione eh che a circa dieci anni di distanza ha portato all'adozione appunto di un nuovo codice eh eh un nuovo codice dei contratti pubblici. Questo nuovo codice quello del duemila e sedici che è un codice anche relativamente recente soprattutto se si tiene presente che ogni processo di codificazione è eh tale perché si assume che sia destinato eh a durare nel tempo eh è frutto degli interventi che si sono eh si sono sviluppati a margine del processo di ricepimento delle nuove direttive eh che avevano regolato la materia. Eh nel duemila e quattordici vengono introdotte appunto delle nuove direttive che trattano anch'esse congiuntamente lavori, servizi e forniture. C'è anche eh le direttive che riguardano la disciplina sulla concessione e quindi bisognava decidere se intervenire sul vecchio codice quello del duemila e sei nel ricepimento di queste direttive ma all'epoca apparse più opportuno eh innovare totalmente il procedimento di codificazione e quindi introdurre un nuovo codice che fosse eh volto proprio al ricepimento di queste eh nuove direttive. Questo codice del duemila e sei è un codice che ha eh un un proprio marchio di fabbrica nel senso che ha una caratteristica portante eh che caratterizza tutta eh la disciplina. È un codice in cui eh prevalgono le esigenze eh di eh prevenzione e di tutela dei fenomeni corruttivi. Eh si incomincia a vedere con diffidenza eh l'operato della pubblica amministrazione e eh in un contesto particolare in cui eh si innova profondamente anche la figura dell'autorità nazionale anticorruzione che non a caso diventa l'organo un'autorità anticorruzione preposta alla vigilanza del settore eh sulla contrattualistica pubblica e quindi la disciplina che nasce e che caratterizza questo codice del duemila e sedici è una disciplina che è assolutamente caratterizzata per degli appesentimenti procedurali nel senso l'esigenza è quella di prevenire la corruzione e quindi eh specularmente si rafforzano eh gli oneri procedimentali si riduce la discrezionalità della pubblica amministrazione e si tende a far a far gestire questo procedimento contrattuale come un procedimento eh per la maggior parte degli aspetti come vincolato. Questo era eh diciamo l'approccio che è stato essenzialmente eseguito nel eh duemila e sedici con la codificazione che eh ha seguito questa eh le nuove direttive in materia. Eh la codificazione invece del eh duemila e venti tre risponde ad esigenze diametralmente opposte rispetto alla codificazione eh del duemila e sedici e si inserisce in un contesto che è ancora più eh particolare perché interviene eh a direttive invariate ossia mentre gli altri procedimenti di codificazione quello del duemila e sedici eh erano giustificati dall'esigenza di recepire le direttive eh in materia di contrattualistica pubblica che erano state emanate a livello europeo in questo caso il nuovo codice che è stato recentemente adottato eh viene adottato sulla base delle medesime direttive quindi i principi eh diciamo gli obiettivi posti eh dal dall'Unione Europea sono sostanzialmente gli stessi anzi sono sostanzialmente e formalmente gli stessi cambia semplicemente l'approccio che se ne vuole dare all'interno del contesto nazionale e questa esigenza di innovare un approccio ai medesimi principi eh fissati a livello europeo è collegato prevalentemente a quelle esigenze post pandemiche eh che si sono che sono derivate dalla traduzione appunto del piano nazionale eh di eh resilienza e ripresa ossia dalla necessità di raggiungere degli obiettivi entro delle tempistiche eh prestabilite che eh e questa esigenza ha eh diciamo determinato eh una maggior velocità delle procedure di eh affidamento dei contratti pubblici e anche delle esigenze di garantire l'effettività appunto del risultato eh si introduce quindi si avvia eh ci si avvia verso una nuova logica eh nell'affidamento di queste commesse pubbliche si vuole abbandonare il precedente approccio e di tutto a eh direttive eh invariate e eh in questo contesto eh vediamo che eh questa riforma questa rintroduzione del codice eh del 2023 è effettivamente frutto di quella disciplina emergenziale che è stata adottata ehm per reagire all'emergenza eh pandemica e eh tant'è che vediamo che la delega la eh ritroviamo nella nell'articolo uno del decreto eh legislativo eh 78 del duemila e ventidue. Allora sulla base di questo decreto eh legislativo eh prevede che il governo è eh delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata del vigore della legge uno o più decreti legislativi che dovrebbero proprio rinnovare la disciplina del contratto. La finalità di questo intervento è quella di adeguare la disciplina al diritto europeo ai principi espressi della giurisprudenza della corte costituzionali e delle giurisdizioni superiori sia interne eh che nazionali eh che sovranazionali quello di razionalizzare e riordinare nonché semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori servizi e fornitura nonché quello di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della commissione europea e di giungere così altresia alla risoluzione delle procedure eventualmente già abbiate. Eh quindi eh queste esigenze che esigenze che stanno almeno le esigenze formalmente rappresentate alla base del processo di eh riorganizzazione della disciplina eh sulla contrattualistica pubblica sono mosse da tre obiettivi fondamentali. Quello di adeguamento al diritto europeo ai principi della giurisprudenza perché ovvio che nel corso del tempo anche sulla base delle medesime direttive e degli interventi appunto della eh della giurisprudenza in modo di intendere alcuni principi e alcune norme è cambiato e quindi si necessitano degli interventi di adeguamento piuttosto che intervenire sulle singole norme si è preferito quindi adottare un nuovo una nuova codificazione un nuovo codice e anche al fine di razionalizzare, riordinare nonché semplificare la eh disciplina vigente. La eh disciplina in materia della contrattualistica pubblica lo sapete già è una disciplina particolarmente complessa e eh l'obiettivo appunto di questo codice è quello di renderla più organica, semplificarla eh un processo di semplificazione che però come vedremo non necessariamente eh si traduce in una riduzione eh delle norme, potrebbe anche determinare un eh un maggior numero di articoli all'interno del codice che però consentano di eh rendere più chiaro qual è il contenuto eh della disciplina. E poi il terzo obiettivo formalizzato è quello di evitare l'avvio eh di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea o risolvere alcune che sono state già avviate perché vi erano alcuni contesti e alcuni settori eh esempio quello del eh subappalto dove eh incominciavano ad emergere dei profili di conflittualità fra la disciplina interna sia la vecchia scelta codificatoria adottata dal eh legislatore del duemila e sedici e la eh gli orientamenti prevalente e prevalenti in sede europea e qui l'obiettivo quello del codice è proprio quello di intervenire su queste procedure di infrazione e quindi uniformarsi a quelle che sono eh le indicazioni eh del eh dell'Unione Europea. Eh è importante eh notare che proprio sulla base di queste medesime esigenze soprattutto quello di razionalizzazione e semplificazione eh della disciplina a fine di rendere la contrattualistica pubblica come una eh una disciplina più snella e più facilmente applicabili la riforma del codice dei contratti pubblici costituisce uno di quegli obiettivi delle cosiddette riforme abilitanti che sono poste alla base del piano nazionale di ripresa e resilienza perché il piano nazionale di eh ripresa e resilienza non si fonda solamente su obiettivi eh materiali che devono essere raggiunti entro determinate tempistiche ma anche su alcuni obiettivi che consistono proprio nella realizzazione di particolari riforme e la riforma del codice dei contratti è proprio una eh degli obiettivi che degli obiettivi che è stato formalizzato all'interno eh all'interno del piano. Questa eh riforma eh del resto e però e con ha messa diciamo tutte le esigenze di eh semplificazione che comporta era infatti eh in larga eh misura già preannunciata da una serie di interventi che che avevano reso e continuavano a rendere eh il codice esposto a eccessive eh modifiche e eh qui eh fatto una brevissima sintesi di alcuni eh interventi eh interventi legislativi che eh diciamo dovrebbero farle emergere queste esigenze di riordino della disciplina perché il più delle volte il codice eh che si suppone debba essere un uno strumento legislativo eh sistematico e ordinato è invece esposto a interventi per lo più contenuti eh in eh nella decretazione appunto d'urgenza quindi decreti eh che interferivano appunto con la disciplina e imponevano una serie di eh correttivi per far fronte alle esigenze che di volta in volta emergevano eh in un determinato contesto storico così eh il codice è stato esposto alla disciplina del decreto sblocca cantieri alle vari al decreto semplificazioni del 2020 al decreto semplificazioni eh bis eh del duemila e ventuno nonché al decreto eh sostegna la disciplina del eh duemila e ventidue. Questo quindi è il contesto in cui matura la scelta di eh riformare il nuovo codice. C'è un contesto in cui eh questo codice nonostante la sua pretesa di omogeneità della disciplina veniva costantemente appunto bersagliato dagli interventi della decretazione di urgenza che eh sistematicamente ne alterava il contenuto in uno o più o a altri aspetti più o meno eh rilevanti. I eh principi e criteri delettivi del eh codice con cui è stato adottato il codice che ritroviamo nella eh comma due dell'articolo eh uno. Mentre è eh singolare eh constatare qual è il procedimento che poi con cui è stata condotta questa ristesura a direttive invariate della disciplina del eh del codice e dei contratti. Perché eh il comma quattro eh dell'articolo uno della legge eh eh delega prevedeva espressamente la possibilità di avvalersi eh del eh consiglio di stato eh al fine dell'istituzione di una commissione composta sia da magistrati appunto della giustizia amministrativa sia da altri soggetti i quali sono stati appunto coinvolti nella stesura eh di questo codice. La eh commissione questa commissione speciale che eh si è eh insediata è una commissione a composizione prevalentemente eh di giuristi e segnatamente di magistrati del consiglio di stato o del eh o del TAR. Ma era integrata anche da qualche avvocato e docente universitario ma eh soprattutto anche da economisti eh e anche da eh ingegneri nonché eh anche da accademici della Crusca proprio che erano eh invitati con l'obiettivo eh di rendere questo codice più facilmente intelligibile eh e quindi diciamo meno complicato eh rispetto alle stesure eh precedenti che ne hanno fatto una disciplina altamente tecnica eh e molto complessa anche per i più avvezzi eh alla materia. Se eh vediamo le tappe con cui ha lavorato la commissione nella stesura di questo eh codice queste sono state tappe estremamente serrate eh perché il trenta giugno del duemila e ventidue il presidente del consiglio dei ministri ha comunicato al presidente del consiglio di stato di volersi a valere della facoltà concessa dalla legge ossia dell'istituzione di rimettere la stesura del codice alla eh al consiglio di stato. Il quattro luglio il compianto eh presidente Frattini ha istituito effettivamente la eh commissione speciale e già ad ottobre cioè ossia eh hanno lavorato sostanzialmente durante i mesi estivi questo primo schema di eh codice dei contratti pubblici veniva presentato dal presidente Frattini al presidente Draghi e poi successivamente sottoposto eh lo schema di decreto legislativo alle commissioni speciali e veniva approvato dal consiglio dei ministri per essere poi alla fine formalmente adottato il trentuno marzo eh del duemila eh duemila e ventitré e pubblicato nella stessa data sulla gazzetta ufficiale. Possono eh farsi delle obiezioni sia di merito che di metodo rispetto al modo in cui è stato adottato eh questo codice ciò che si è lamentato eh ad esempio e eh o una composizione della commissione eccessivamente appiattita su eh eh sui profili eh sui magistrati anziché appunto su eh su altri operatori eh del diritto e eh sotto il profilo appunto del metodo è stato anche criticato eh diciamo da non solo la distrettezza di tempi in cui è è stata chiamata a operare questa commissione ma eh soprattutto ehm a fianco alla ristrettezza dei tempi anche eh scusate il problema informatico anche oltre alla ristrettezza dei tempi anche eh gli esiti di questo procedimento di codificazione che non ha previsto delle camere di compensazione ossia dei momenti eh con cui di raffronto con gli operatori principali operatori del settore eh già che è stato condotto in via unilaterale senza audizioni eh preventivi che potessero illustrare il contenuto e suggerire eventualmente qualche intervento eh correttivo. Ciò nonostante questo codice ha visto la luce in tempi record e eh ha eh una eh struttura eh relativamente eh snella ma comunque eh sufficientemente organica e omogenea in cui viene suddivisa in cinque libri eh in cinque libri essenziali. Un primo libro dedicato appunto ai principi eh ai principi alla digitalizzazione, alla programmazione e alla progettazione. Un secondo libro dedicato proprio agli appalti eh in senso stretto ossia che individua sia istituti e clausole comuni che istituti eh speciali. Un terzo libro dedicato agli appalti eh nei settori speciali. Un quarto libro che eh si eh preoccupa di incentivare il ricorso alle formule del partenariato pubblico privato e anche agli istituti eh alle concessioni eh da cui eh derivano. E poi il quinto libro che è dedicata al eh alla fase appunto del contenzioso, alcune disposizioni sull'ANAC e nonché alcune eh disposizioni eh transitorie. Eh allora per quanto riguarda eh questa struttura apparentemente snella o comunque non eccessivamente eh sovrabbondante di 229 articoli suddivisi eh in cinque libri, la stessa deve essere integrata però dalla presenza di eh 38 aggregati che vengono prodotti direttamente dalla commissione speciale ossia sono allegati al codice dei contratti che nascono contestualmente eh al codice stesso eh e eh consentono così di applicare direttamente il codice e riguardano una serie di oggetti eh talvolta anche eh oggetti non originariamente previsti dalla eh precedente codificazione. Allegati che disciplinano eh l'attività del gruppa, allegati eh che eh disciplinano anche le tempistiche di conclusione dei procedimenti e altri aspetti legati ad esempio anche alla eh cabina di regia ehm anche al funzionamento della cabina di regia. Questa struttura del codice eh quindi segna diciamo in modo abbastanza evidente quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo eh processo di codificazione. Eh se infatti il vecchio codice eh la struttura del codice del duemila e sedici era stata caratterizzata per la valorizzazione di interessi ulteriori ed estranei sostanzialmente estrani a quello dell'amministrazione eh appaltanti o concedenti. Eh in questo caso diciamo la eh disciplina del nuovo codice è proiettata proprio sugli interessi dell'amministrazione procedente. La vecchia disciplina della contrattualistica pubblica ossia quella eh risultante dalla codificazione del duemila e sedici infatti prevedeva eh prevedeva molta enfasi eh sulla valorizzazione di interessi anche eh di latura extra economica ossia non erano solamente gli interessi eh dello Stato o fino anche gli interessi del mercato e quelli della promozione della concorrenza ma lo strumento della contrattualistica pubblica veniva utilizzato come uno strumento eh per veicolare che veniva utilizzato per veicolare altre politiche settoriali. Così proprio nella codificazione del duemila e sedici veniva valorizzata la possibilità di introdurre clausole sociali e ambientali all'interno eh del contesto della contrattualistica pubblica. Mi riferisco al fenomeno eh degli appalti verdi eh anche eh anche eh e eh aveva anche eh questo forte approccio di contrasto alla criminalità ossia eh era una disciplina eh che era volta eh a prevenire eh a prevenire i fenomeni corruttivi con una serie di oneri eh eh particolarmente rafforzati che avevano anche visto una eh eh un rafforzamento del ruolo dell'ana ossia l'autorità anticorruzione era lo stesso soggetto preposta ad un'attività non solo di vigilanza sul settore ma anche di regolazione sul settore perché tutta la disciplina del vecchio codice del codice del 2016 eh presupponeva l'intervento eh dell'anac attraverso appositi strumenti di soft law che erano eh queste linee guida vincolanti che come eh eh è ormai noto hanno scatenato appunto la dottrina rispetto alla eh loro qualificazione giuridica perché se si tratta di linee guida non potrebbero essere eh vincolanti eh perché allora si porrebbe un cortocircuito nel sistema appunto di eh democratico della responsabilità eh democratica e per tali ragioni poi venivano definite dal Consiglio di Stato comunque come atti amministrativi eh generali e poi la vecchia disciplina si eh fondava sul regolamento unico di attuazione di questo codice che in realtà non era stato mai adottato e quindi per questo motivo per molte norme per molti aspetti bisognava fare ancora un riferimento al regolamento di attuazione del codice previgente. Il nuovo codice cerca di semplificare sotto eh sotto questi aspetti perché basti pensare è vero che eh cinque libri e 229 articoli, 38 allegati al codice possono eh eh sembrare molti però se lo raffrontiamo rispetto alla situazione eh precedente eh precedente diciamo il contesto è eh sembra sotto un punto di vista sistematico e organico eh comunque migliorativo della eh del preesistente sistema. Eh basti pensare che nel precedente contesto eh vi erano comunque venticinque allegati, diciassette linee guida che erano comunque eh corpose e in più quindici regolamenti di eh dei quali alcuni erano anche eh eh molto lunghi. E poi c'era anche questa difficoltà di fondo nell'applicazione della eh disciplina derivante eh dal codice del 2016 che queste linee guida eh adottate eh appunto dall'ANAC non erano esposte e formulate alla stregua di norme quindi eh contenenti un precetto eh ben individuato ma erano formulate eh diciamo redatte in formula discorsiva eh e eh diciamo con un linguaggio poco consono a quello eh di eh norme che dovrebbero avere un contenuto dispositivo. Quindi la scelta eh del nuovo codice è stata quella di eliminare questi strumenti appunto delle linee guida e rimettere l'applicazione eh l'applicazione di questa disciplina all'adozione di eh alcuni regolamenti ma nelle mole dell'adozione di regolamenti ministeriali o regolamenti eh governativi questa disciplina sarà eh già autoesecutiva sarà già applicabile perché eh è possibile eh far riferimento eh eh direttamente agli allegati che disciplinano nel dettaglio eh queste attività. E in questo modo si recupera diciamo un ruolo più operativo rispetto all'ANAC eh anziché un ruolo di eh eh regolazione in senso stretto e eh l'ANAC viene diciamo vengono circoscritti alcuni eh poteri dell'ANAC che riassume un ruolo in cui è predisposta eh alla eh alla stesura di modelli eh standardizzati per eh le formule contrattuali rin continua a disporre appunto dei poteri sanzionatori e può anche avere una maggiore attenzione sulla fase eh esecutiva del contratto eh in eh senso eh stretto. Eh c'è eh un un'altra caratteristica di fondo rispetto a eh questa disciplina del nuovo codice eh dei contratti pubblici perché eh prevede una eh alcuna peculiarità fra eh entrata in vigore ed efficacia delle eh relativa norme. Nel senso questi aspetti che sono normalmente fisiologicamente collegati in questo contesto invece vengono separati perché l'entrata eh in vigore eh del codice con i relativi e gli aggregati è il primo aprile mentre le disposizioni del codice con i relativi aggregati acquistano efficacia il eh primo luglio del 2023. Eh queste le ragioni di eh questi eh approcci eh di questo approccio è specificato nella stesso articolo nella stessa relazione eh al codice eh relazione all'articolo 229 dove si dice espressamente che questa distinzione rileva sia per la possibilità nel periodo intermedio di sostituire sostituire gli aggregati che come abbiamo visto si applicano transitoriamente eh con i regolamenti eh nel senso che gli aggregati si applicheranno solo fin tanto che non verranno adottati i regolamenti governativi o ministeriali. Sia ma ci dice anche la relazione sia soprattutto perché la data di acquisto dell'efficacia del codice eh eh è quella da considerare per stabilire quali sono i procedimenti in corso cui continua applicarsi la disciplina del vecchio codice. Sostanzialmente vi sono appunto la disciplina del vecchio codice continua ad applicarsi per tutti i procedimenti che erano in corso eh alla data appunto di eh entrata eh in vigore del codice e eh questi procedimenti che sono sorti sotto la vigenza del vecchio codice continueranno ad uniformarsi alle regole che sono che erano allora eh vigenti secondo la regola tempus reggit acto eh e eh questa è la particolarità. Altre particolarità di questo codice rispetto all'entrata in vigore e eh all'efficacia della disciplina invece riguardano dei fenomeni di ultraattività di alcune norme perché alcune norme eh del vecchio codice si continueranno ad applicare fino a fine anno ossia fino al 31 dicembre eh del eh 2023 e si tratta eh eh più nel dettaglio delle norme che riguardano la pubblicità, la programmazione, la digitalizzazione, l'accesso agli atti nonché alcuni aspetti eh del eh subappalto. Allora eh volendo fare una breve eh panoramica su alcune delle caratteristiche eh alcuni eh delle caratteristiche eh delle principali novità di questo codice eh alcune di quelle che non esamineremo oggi stesso eh diciamo che uno dei profili eh eh dei profili più innovativi è quella della sostituzione del responsabile unico del procedimento col responsabile unico del progetto che è questa nuova figura su cui ci soffermeremo nel dettaglio eh nel corso del prossimo eh webinar. Eh da eh altri aspetti innovativi sono eh diciamo riguardano la disciplina del subappalto e segnatamente sulla possibilità di ricorrere al cosiddetto subappalto eh a cascata. Altre peculiarità riguardano la semplificazione dei livelli di progettazione che passano da tre a due e un'altra eh specificità riguarda l'appalto integrato ossia quest'istituto che è stato un'istituto esposta ad alterne vicende perché come saprete la storia di questo eh istituto ha visto una eh valorizzazione abolizione di nuovo valorizzazione di nuovo abolizione e adesso viene reintrodotto appunto in questa eh disciplina. Poi altre specificità riguardano il sistema di qualificazione delle gestazioni appaltanti e ha un aspetto singolare che potrebbe essere anche un aiuto nell'applicazione della nuova eh disciplina è quella dell'istituzione all'interno della eh cabina eh di regia eh di una sorta di servizio di help desk per gli appalti in cui eh si preannuncia quasi che dovesse che questa cabina eh di regia possa servire per offrire un supporto eh operativo tecnico operativo alle varie problematiche che potrebbero sorgere nel corso eh nel corso nell'applicazione appunto di eh questo eh codice. Ah allora io eh se eh prima di entrare eh eh nella fase diciamo eh concreta in cui esamineremo poi i principi eh di questo codice di ricadute applicative che possono eh che possono avere eh io forse approfitterei vista eh visto che più o meno eh se n'è andata via eh la eh prima ora per una breve pausa che potrebbe essere eh un'occasione anche eh per raccogliere qualche spunto e qualche idea qualche spunto o qualche domanda o qualche suggerimento rispetto a tematiche che già preanno si preannunciano eh potenzialmente eh rilevanti eh rispetto ai vostri interessi. Questo anche per meglio coordinare le future attività poi eh formative che dovranno essere sviluppate a partire da settembre. Eh quindi eh lascerei la parola alla dottoressa Russo che ho visto che ha acceso la telecamera. Allora al momento sì eh ti facciamo appunto anche diciamo respirare un attimo e e vediamo un attimo se arriva qualche domanda perché al momento non ce ne sono in chat quindi eh chiedo ai 77 partecipanti ciascuno di loro se ci sono domande fino ad ora. Eh è chiaro che eh in questa prima parte eh l'avvocato Caruso ha dato un po' diciamo di indicazioni su quello che è stato il percorso l'iter che ha portato al nuovo codice e ehm e quindi di conseguenza magari eh ci sono eh credo che in linea di principio almeno per me è tutto anche abbastanza chiaro. Eh probabilmente eh e non so se appunto visto che diversi diciamo dei partecipanti sono responsabili di linea piuttosto che controllori magari anche capire logicamente non oggi perché non è che è stato preventivato eh sull'ultima slide se magari ci torniamo un attimo ehm eh che è stata diciamo illustrata dalla dall'avvocato Caruso ehm se eh ci sono appunto alcuni spunti che potrebbero dare eh diciamo il là a a docenze della diciamo che potremmo programmare eh al rientro diciamo eh quindi intorno a settembre così come ehm relativamente anche a quelle che sono invece le normative ancora in vigore e e quindi che probabilmente è necessario diciamo invece sulle quali invece continua ad essere necessario focalizzare perché eh comunque devono essere eh normative ancora applicate fino fino alla in questi momenti di transizione credo che per tutti noi in primis appunto chi lavora nella pubblicità amministrazione fa fatica a dover poi contemperare quella che è la normativa in vigore eh e quindi a capire qual è il limite e il discrimine tra tra i vari tra i tra i tra i vari eh tra le varie norme eh allora questo per dire per prendere un attimo di tempo per vedere se arrivava qualche nome o qualche domanda però appunto non ne vedo eh neanche appunto dell'assistenza tecnica neanche diciamo dei colleghi che eh che svolgono diciamo eh operativamente eh un'attività di supporto di supporto o tecnico presso presso i responsabili di linea i controllori e del PSC eh anche se vedo che c'è un collega che sta scrivendo quindi aspettiamo un secondo però invito visto che eh purtroppo non abbiamo le telecamere per vedere tutti purtroppo diciamo siamo stati abituati eh con il covid a fare un po' di webinar eh un bel po' di webinar oggi ci siamo ci stiamo quasi disamorando questo strumento magari facciamo mille altre cose e non dedichiamo la la dovuta attenzione un po' alla cura anche un po' dell'aggiornamento personale però appunto devo dire che eh e quindi concordo con il eh con il collega Ciriolo che fino ad ora eh diciamo è tutto molto molto chiaro perché comunque erano elementi abbastanza di contesto quindi questo per dire che rilascio la parola all'avvocato Caruso in modo che poi possiamo ora focalizzare sui principi. Allora sì effettivamente più che delle domande magari era eh mi aspettavo magari qualche spunto qualche eh diciamo eh qualcuno che avesse un interesse particolare ad esaminare qualche questione in particolare eh in particolare eh che eh probabilmente effettivamente in un contesto di indicazioni diciamo di contesto della genesi e della struttura appunto eh di questo codice forse eh servono più che altro per inquadrare qual è potrebbe essere la successiva eh attività eh attività formativa. Venendo quindi alla parte diciamo un po' più operativa in cui incominciamo a diciamo uscire dal contesto eh di questo codice e delle ragioni che hanno eh condotto alla sua eh formulazione eh possiamo andare a vedere una eh il primo tratto caratterizzante di eh questo eh codice che è quello di eh introdurre dei eh principi di contenere una prima parte che abbiamo eh ve l'ho fatto vedere nella eh nella eh nella slide sulla struttura appunto di questo codice il primo libro del codice eh è intitolato proprio i principi eh del codice e si tratta questa è una scelta eh una scelta sicuramente innovativa rispetto alla eh alla precedente eh disciplina perché solo per farvi eh qualche esempio nel vecchio decreto legislativo eh numero 50 del 2016 ossia il vecchio codice non vi era alcuna parte iniziale che fosse eh dedicata ai principi eh quelli di voi che già hanno applicato la eh normativa e si sono confrontati con il testo del vecchio codice hanno sicuramente visto che eh qui eh vi è una una parte il titolo uno del vecchio codice che è intitolato sì eh principi generali però se poi noi andiamo a vedere il contenuto di questi principi generali in realtà eh l'articolo uno del vecchio codice si limita semplicemente a definire qual è l'ambito di applicazione del codice stesso quindi si sofferma appunto sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del codice poi all'articolo 2 seguono le indicazioni per la distribuzione delle competenze legislative fra eh Stato e regioni perché ricordiamoci che a seguito della riforma del titolo quinto gli interventi in materia di contratto a listica pubblica sono legittimi da parte dello Stato solo in quanto riconducibili a materia di competenza legislativa esclusiva o concorrente eh dello Stato eh e poi un articolo 3 il vecchio codice conteneva in cui all'interno di questo articolo 3 eh secondo una tecnica eh normativa eh di ispirazione eh comunque non appartenente diciamo alla tradizione giuridica eh latina c'è un elenco un corposo elenco di definizioni in cui eh ci eh indicavano quale fosse la definizione di ogni eh istituto e il eh vecchio codice conteneva poi una eh un titolo secondo in cui indicava la disciplina appunto dei contratti esclusi in tutto o in parte nel campo di applicazione del codice però non conteneva una vera e propria indicazione di principi applicabili eh al codice stesso questi trovavamo dei primi principi nel vecchio codice eh dei contratti pubblici solamente se andavamo avanti quindi procedevamo nella eh nell'esame eh della eh disciplina e quindi andavamo all'articolo 30 e eh potevamo ricavare dei principi che sembravano applicarsi sia che si applicavano sia alla fase dell'affidamento sia alla fase eh dell'esecuzione in quanto la norma ci diceva che queste due fasi devono avvenire nel rispetto di una serie di principi eh stabiliti principi consolidati come quello dell'economicità e dell'efficacia che attengono rispettivamente all'uso ottimale delle risorse eh impiegate eh all'interno appunto eh del contratto nonché l'efficacia eh ossia la capacità appunto di raggiungere lo scopo presupposto. Altri principi era quello della tempistività ossia che eh rimarcava l'esigenza di non aggravare il procedimento coerentemente con la disciplina generale eh già sancita dalla legge 241 del 1990 nonché principi di correttezza e buona fede anch'esse eh ricavabili comunque dalla legge generale sul procedimento eh eh sul sul procedimento che venivano richiamate anche all'interno per del procedimento di affidamento appunto del contratto e si riteneva che fosse e si ritiene anche oggi che fossero principi che governano anche le fasi relative all'esecuzione. Parallelamente a questi principi eh che riguardano la eh che erano formalizzati appunto nel vecchio codice relativi ad entrambe le fasi affidamento ed esecuzione del contratto erano anche dei principi che erano invece eh più strettamente eh peculiari della fase dell'affidamento. così eh c'era il principio della libera concorrenza che poi si articolava in una serie di concorrali come quello del favor partecipazionis ossia che eh bisognava sempre in caso di dubbio eh adottare l'interpretazione o comunque quelle soluzioni giuridiche e ordinamentali che eh fossero funzionali ad ampliare la platea dei concorrenti perché l'obiettivo di quella disciplina era eh anche quella di eh eh promuovere la concorrenza all'interno di un determinato settore. C'era il principio di eh parità di trattamento di non discriminazione che erano comunque delle declinazioni del principio di eh imparzialità dell'articolo novantasette eh della eh costituzione e sono anche un effetto del procedimento eh un effetto della procedimentalizzazione dell'attività e si traducono poi nel principio di par condicio fra i partecipanti eh e diciamo in un obbligo in un eh onere comunque di eh non discriminare anche per esempio sulla base della provenienza eh della eh della provenienza appunto singoli operatori economici. Poi c'è il principio di trasparenza pubblicità che sono principi anch'essi funzionari eh funzionari anche per i primi e anche il principio di eh proporzionalità in cui eh si imponeva che questa procedura dovevano essere eh diciamo eh regolate con eh strumenti idonei al fine da raggiungere senza aggravare eh senza aggravare in modo eccessivo non essere sovrabbondanti rispetto da lo scopo perseguito. Principi che poi si traducevano in specifici eh oneri nella definizione eh eh nella definizione della eh delle clausole delle clausole di partecipazione o delle clausole eh di esclusione. E invece il nuovo codice eh adotta un approccio totalmente differente perché eh valorizza i principi non come elementi ancillari che rilevano occasionalmente eh occasionalmente che rilevano rispetto a singole fasi ma eh assumono proprio una centralità anche diciamo nella collocazione topografica all'interno appunto del codice stesso per cui c'è proprio la prima parte del titolo primo appunto del del libro primo appunto del codice che è dedicata proprio ai principi generali. I principi eh generali che devono applicarsi quindi a tutto eh a eh tutto il codice e eh questa è una scelta un po' eh particolare quella di far precedere il codice da una preventiva eh definizione di quelli che sono eh i principi eh applicabili perché eh eh diciamo che il il problema nella codificazione o meglio la scelta che sta alla base della codificazione di questi principi è una scelta eh un po' ambigua tant'è che alcuni eh secondo eh delle impostazioni appunto eh anche dottrinali prevalenti principi sono solo quelli non scritti quelli che possono essere ricavati interpretativamente. Mentre quando vengono fissati con le leggi e i principi assumono necessariamente un eh un significato diverso perché eh una volta che vengono formalizzati all'interno di un contesto normativo hanno l'inevitabile effetto appunto di comprimere o di contenere eh diciamo il il potere interpretativo del del eh del giudice e quindi si dice che normalmente i principi eh formalizzati fissati nelle leggi sono diciamo un argine al creazionismo giudiziario perché dovrebbero proprio eh evitare eh diciamo delle interpretazioni libere da parte appunto del giudice e quindi dovrebbe essere funzionale alla eh ad una maggior certezza del diritto eh certezza del diritto. Diciamo che una volta che sono contificati questi principi che reggono il codice dei contratti eh dei contratti pubblici eh hanno anche un effetto eh particolare perché eh proprio eh dal processo di codificazione questi principi hanno la funzione di portare al sistema appunto una eh disciplina che eh è per sua natura molto tecnica ed è anche eh frammentaria e quindi questi principi intesi in questa in questo modo operano come criteri che servono per l'interpretazione appunto delle norme e quindi servono per supplire ad eventuali carenze normative ossia quando una disciplina eh una norma non disciplina tutte le ipotesi eh astrettamente possibili e facciamo riferimento ai principi per supplire un vuoto eh normativo oppure possiamo utilizzare questi principi anche per risolvere potenziali conflitti eh fra norme ossia vi sono norme che eh definiscono contenuti potenzialmente contrastanti eh e eh in questo caso eh con il principio diciamo io riesco a risolvere questi eh questi eh questi conflitti e eh diciamo che in questo senso è eh è singolare notare che che molti di questi principi che sono dichiarati come principi in realtà non sono declinati come veri e propri eh ma contengono una disciplina attuativa eh abbastanza eh abbastanza eh invasiva e eh e contengono anche alcune eh peculiarità perché eh c'è anche quando ci sono più principi che concorrono alla regolazione eh di un determinato contesto normativo bisogna capire anche che il rapporto si pone fra questi principi e diciamo che in questo caso il codice è stato eh abbastanza ringimilante perché all'articolo 4 ci ha fissato qual è il criterio interpretativo e applicativo appunto della eh eh della lega nel senso che ha individuato dei principi che possiamo definire quasi come principi sovraordinati eh che sono i primi tre principi quello del risultato della fiducia e dell'accesso al mercato perché le disposizioni del codice si interpretano e si applicano proprio in base a eh questi due principi quindi eh diciamo il codice ha anche il pregio non solo di eh identificare quali sono i principi che reggono la materia eh ma anche di eh definire qual è il rapporto eh fra questi principi e eh quindi un approccio diciamo un tendenzialmente diverso da quello che eh che si adotta negli altri eh negli altri processi eh in cui vengono eh in cui eh il riconoscimento dei principi normalmente è abbastanza ostica ad una ad un processo di gerarchizzazione dei valori come avviene per esempio all'interno della Costituzione dove si ritiene che tutti i principi valori contenuti nella prima parte della Costituzione siano equi ordinati nel senso che non vi sia una gerarchia eh fra gli stessi. In questo caso invece il codice ha effettuato una chiara scelta di campo nel senso che ha individuato alcuni principi che si apprestano che si prestano ad essere intesi ed interpretati come principi gerarchicamente sovraordinati rispetto agli altri principi eh che reggono la disciplina. E eh eh sul punto ehm vorrei sottolineare che eh il eh eh il registratore in questo caso commissione speciale eh che ha adottato il codice si è preoccupato appunto di chiarire quale fosse eh l'obiettivo di questa eh codificazione appunto dei principi perché era una soluzione effettivamente innovativa rispetto al precedente alla eh precedente soluzione ai precedenti processi di codificazioni. E qui eh se andiamo a leggere la relazione al eh decreto legislativo che ha adottato appunto il codice eh si eh chiarisce che la codificazione dei principi mira a realizzare fra l'altro i seguenti obiettivi. Quello di ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l'obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preeminente interesse della committenza e della eh della eh collettività. Ossia eh qui eh stiamo codificando i principi perché eh vogliamo chiarire che la concorrenza non è il fine eh ma è uno strumento e questo qui è quindi un'inversione di tendenza rispetto all'approccio che era seguito nel precedente codice in cui sembrava quasi che l'obiettivo della disciplina non fosse quello appunto di garantire l'esecuzione della commessa pubblica ma fosse quello appunto di promuovere e instaurare la concorrenza. Qui invece ci chiarisce la stessa relazione che questo processo di codificazione è eh proprio eh finalizzato a far sì che la concorrenza venga intesa come mezzo e non come scopo da raggiungere eh con la disciplina a eh prevista dal codice stesso. E questa codificazione eh dei principi mira secondo la relazione anche ad accentuare e ancoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle estazioni appaltanti. Eh quindi cosa che si vuole fare? Si vuole sostanzialmente assicurare che le amministrazioni nella scelta eh nel procedimento di scelta del contente abbiano dei maggiore delle maggiore capacità di inter di intervento e questo eh nell'idea di eh delineare un nuovo quadro appunto di fiducia verso l'amministrazione che dovrebbe servire per ostacolare questo fenomeno della burocrazia difensiva che in realtà genera molte ritardi delle inefficienze nell'affidamento e nell'esecuzione appunto dei contratti. E eh in questo contesto ci ricorda la relazione che eh è fondamentale la eh l'introduzione di questo principio del risultato della fiducia e dell'accesso al mercato che sono principi gerarchicamente eh sovraordinati perché proprio dalla loro lettura congiunta che si dovrebbe determinare un cambio di passo rispetto al passato cioè perché vengono considerati come criteri di interpretazione di tutte eh le altre eh le altre norme. E eh questo qui eh noi eh lo vediamo anche in un in rapporto ad una struttura del codice che viene che vede in questo titolo primo l'indicazione dei principi cipi da dall'articolo uno all'articolo dodici e poi dall'articolo tredici e seguenti invece parte con eh un un'e indicazione più concreta di norme che verranno applicate eh che verranno applicate a eh tutte le tipologie eh contrattuali. Allora eh mi chiedono di parlare più vicino al microfono spero che adesso si eh senta. Quindi vi dicevo vi sono dei principi che sembrano gerarchicamente sovraordinati dei principi eh diciamo eh fondamentali che sono questi tre principi del risultato della fiducia e dell'accesso al mercato. Adesso andiamo a vedere un po' più eh nel dettaglio qual è il eh il eh loro contenuto incominciando proprio dal principio del risultato. Allora il principio del risultato è formulato al comma uno dell'articolo uno eh affermando che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e concorrenza. Cerchiamo di chiarire un attimo cos'è che vuol dire eh questo principio eh del risultato. Eh perché eh il primo approccio, la prima idea che potrebbe eh venire in mente è che il principio del risultato in un ordinamento normale dovrebbe essere un principio eh inutile perché è ovvio che la disciplina del contratto attualistica pubblica dovrebbe servire in primo luogo per garantire la stipula del contratto e la sua eh esecuzione. E eh quindi è ovvio che l'interesse primario di ogni disciplina che regoli i contratti della pubblica amministrazione sia proprio quello di garantire la stipula del contratto e la sua esecuzione. Quindi questo eh la stessa esigenza di formalizzare un principio del genere ossia che la disciplina ammira al risultato dell'affidamento del contratto e la sua esecuzione forse è più che altro un'autocritica eh da parte appunto eh del eh legislatore e anche della giurisprudenza perché eh vuole invertire quella tendenza dagli stessi abbracciati di utilizzare il contratto e lo strumento della contrattualistica pubblica come strumento finalizzato al perseguimento di politiche differenti. Eh eh abbiamo detto che la contrattualistica pubblica veniva utilizzata per instaurare il mercato unico ma abbiamo visto anche che veniva utilizzata e caricata di esigenze ulteriori come strumento attuativo di politica ambientale politiche di coesione sociale ma ci sono anche numerose discipline che servono per favorire e piccole e medie imprese e altre discipline che servono per eh garantire e prevenire appunto i fenomeni corruttivi qui con l'introduzione di questa norma il principio del risultato la eh disciplina il codice ci ricorda ciò che dovrebbe essere sostanzialmente ovvio cioè che il contratto serve per fare qualche cosa i contratti della pubblica amministrazione servono per fare qualcosa per realizzare un ponte per garantire un servizio per acquistare appunto un determinato computer perché l'interesse pubblico principale è comunque non tanto neanche nel risultato dell'affidamento del contratto ma più che altro nella sua esecuzione perché il contratto eh eh bene eh ricordarlo è pur sempre un mezzo con il quale si eh realizza eh un fine ossia il contratto ha sempre una funzione strumentale per poi garantire il fine che la prestazione in esso dedotta che su cui insiste eh l'interesse dell'amministrazione ed è proprio in quella prestazione che può essere che può in via diretta o indiretta essere finalizzata al eh benessere dei eh cittadini e qui eh diciamo che la disciplina eh sulla contrattualistica pubblica era stata contaminata da una eh sconfinata gamma di interessi eh diversi eh diversi e eh l'obiettivo di questo principio del risultato è quello di riportare la disciplina con i piedi per terra e quindi di eh immunizzare diciamo questa disciplina sulla contrattualistica pubblica da tutti quegli interessi diversi che l'avevano che l'avevano contaminata e che eh avevano eh diciamo condotto eh piegato la disciplina di interessi eh diversi rispetti a quella dell'esecuzione del contratto stesso. È un principio che ovviamente è frutto eh dei tempi perché eh se eh fino a poco tempo fa la disciplina nella disciplina della contrattualistica pubblica prevaleva l'esigenza di evitare il fenomeno corruttivo proprio in concomitanza con le misure emergenziali la disciplina eh diciamo di stampo emergenziale adottata eh a margine del PNRR eh gli obiettivi eh sono eh necessariamente appunto cambiati e eh diciamo si è incominciata ad insinuare più prepondentemente una logica eh del risultato una logica appunto di stampo aziendalistica che cerca di sostituirsi alla logica procedimentale a quella della legalità. Nel senso comincia ad emergere l'idea che la legalità può essere tale solo se garantisce l'effettività appunto di un eh determinato eh risultato e quindi in questo contesto eh prevale questa logica di stampo aziendalistico che vorrebbe eh garantire sostituire alla procedimentalizzazione appunto dell'attività la logica appunto del raggiungimento appunto degli obiettivi secondo una teorizzazione anche eh dottrinare dell'amministrazione appunto del risultato che era stato già eh avanzata da tempo. Così noi nella disciplina del vecchio codice era caratterizzata dalla cultura del sospetto eh per cui la disciplina sulla contrattualistica pubblica era rimessa ai poteri regolatori e di vigilanza dell'autorità preposta all'anticorruzione. Ciò comportava quindi una riduzione al massimo della discrezionalità eh delle amministrazioni e anche queste linee guida che venivano introdotte eh nella disciplina erano proprio finalizzate a contenere appunto la discrezionalità dell'amministrazione e corrispondentemente la eh i funzionali dell'amministrazione si nascondeva dietro questi fenomeni di burocrazia difensiva e quindi di paura eh della firma eh e eh adottavano un approccio appunto cautelativo approccio cautelativo per cui non di lato succedeva che anche quando anche l'amministrazione fosse nelle nell'ipotesi nel ventaglio di ipotesi che legittimava il ricorso agli affidamenti diretti eh era preferibile procedere con delle procedure aperte anche se eh non erano eh dovute perché la procedura per quanto era più gravosa e rallentava appunto il raggiungimento l'esecuzione appunto eh comunque aveva lo scopo di eh porre al riparo il funzionario pubblico o l'amministratore da eventuali eh da eventuali eh responsabilità. Con nuovo codice con questa eh con diciamo l'accoglimento di questa cultura eh aziendalistica del risultato invece eh eh la discrezionalità non viene diminuita non viene eh ristretta ma aumenta la discrezionalità da parte dell'amministrazione e eh i dubbi eh eventuali dubbi interpretativi devono essere risolti eh garantendo l'opzione interpretativa che sia più in grado di eh garantire il risultato il buon risultato quindi la stipula eh del contratto eh del contratto stesso. Qui eh la eh norma è abbastanza chiara e eh perché ci dice eh l'estazione appattante e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e delle sue esecuzioni con la massima tempestività il rapporto nel miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi eh di legalità e trasparenza e concorrenza. Cioè quindi tutti questi altri interessi questi altri eh la tempestività il rapporto qualità prezzo rispetto dei principi di legalità trasparente e concorrenza sono considerati dalla disciplina sempre dei mezzi e quindi hanno una funzione funzione ancillare rispetto all'obiettivo primario che è quello di garantire il risultato. Allora mi segnalano che ci stanno ci sono dei problemi di audio che risulta un po' disturbato. Provo. Ok. Allora provo a contenere. Eh? Provo a contenere i movimenti. Sì allora. Provo a muovermi piano nei limiti del possibile. Effettivamente questi sono con la formazione a distanza questi sono alcuni eh dei rischi che si corrono nel senso che c'è sempre il rischio che qualcosa non va non funziona ed è anche difficile anche dalla parte del regatore mantenere la compostezza in determinati eh in determinati contesti. Anche perché io lo confesso io sono abituato a normalmente l'attività di docenza svolgere in piedi e essere costretti seduti è abbastanza è abbastanza limitante. Comunque tornando a noi massima tempestività la miglior rapporto qualità prezzo rispetto ai principi di non ti devi muovere sono dei mezzi per raggiungere. Non ti devi muovere. Mi rendo conto che dopo due ore di docenza è un pochino problematico. Però il secondo comma. Cioè sarebbe il caso che magari quando ti muovi il braccio e funzionare a garantire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. Quindi ci dice che qui non è più la concorrenza l'obiettivo primario della disciplina come avveniva e come era legittimo sostenere sulla vigenza del precedente codice. Qui anche la concorrenza è uno strumento che serve sempre per garantire il risultato. Il risultato che è la stella polare che dovrà avere come riferimento il eh l'operatore economico nell'affidamento appunto delle commesse pubbliche. Continua poi il secondo comma ricordandoci che nell'affidare che la trasparenza e anche la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e alla celerità nella corretta applicazione del presente decreto e ne assicura la verificabilità. Allora lasciando adesso da parte un secondo la verificabilità effettivamente qui forse qualche perplessità può sorgere perché che la trasparenza possa assicurare la semplicità o la celerità della procedura effettivamente può possono può suscitare qualche qualche dubbio perché più aumentano gli oneri di trasparenza sicuramente ma più viene diciamo ritardata appunto la procedura che non potrà essere mai più veloce all'aumentare appunto degli oneri della trasparenza. Però questa è un'indicazione del principio perché ci vuole dire sostanzialmente che gli oneri della trasparenza non possono compromettere diciamo l'obiettivo principale che è quello di garantire il risultato del contratto. Ciò che in realtà è interessante è che questa trasparenza viene strettamente collegata alla verificabilità e qui anche qui è interessante vedere che la relazione al codice ci dice che questo concetto di verificabilità serve per rievocare quel concetto di accountability ossia inteso come responsabilità per i risultati conseguiti. e qui questa logica del risultato dovrebbe far sì che si ripropone un discorso sulla definizione degli obiettivi e un controllo anche sul raggiungimento di questi obiettivi che dovrebbe essere uno strumento per assicurare e per misurare l'accountability nell'ottica sperata di una responsabilizzazione dell'operatore. Andando avanti vediamo invece che questo principio del risultato è collegato dal stesso articolo 1 che abbiamo visto all'esigenza di garantire la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto. E quindi è fisiologico che il principio una volta affermato in astratto poi venga declinato in concreto con qualche misura più specifica e qui c'è un'altra significativa novità rispetto al precedente disciplina che è prevista dal secondo comma dell'articolo 17 in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato 1-3. Questa è una novità perché normalmente non era indicata il tempo massimo di gestione appunto della procedura e invece quest'allegato 1.3 adesso contiene una scansione appunto delle tempistiche massime del procedimento peraltro facendo ciò che avrebbe già dovuto fare in base all'articolo 2 della legge 241 del 1990 che prevede già l'individuazione appunto di tempistiche per la conclusione del procedimento. e qui questo in base all'indicazione dell'allegato abbiamo appunto delle procedure delle tempistiche differenziate rispetto al livello di complessità della procedura e così abbiamo la durata massima che può essere di nove mesi per la procedura aperta che si arriva fino alla durata minima che è quella di tre mesi per la procedura negoziata che non sia preceduta dalla pubblicazione appunto di un bando di gara. E qui si prevede altresì che la proroga rispetto a questi termini di durata massima appunto del procedimento possa essere concessa da parte del responsabile unico del progetto del nuovo RUP solamente in presenza di circostanze eccezionali o situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà. Però si chiarisce in ogni caso che quando si supera il termine previsto appunto in questi aggregati questo superamento dei termini costituisce una delle cosiddette forme di silenzio in adempimento. Silenzio in adempimento che sottende inevitabilmente che l'inerzia della pubblica amministrazione diventa così giustiziabile e diventa ricorribile di fronte al giudice amministrativo. Questa è quindi una delle caratteristiche appunto degli effetti concreti del principio di risultato anche in termini di tempestività nell'esecuzione, nel raggiungimento appunto dello stesso. Tuttavia gli aspetti più interessanti di questo principio del risultato si collegano anche alle altre ricadute indirette che può avere perché il principio del risultato ci dice il comma 4 dell'articolo 1 costituisce un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e l'individuazione nel caso concreto nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi dei contratti pubblici nonché nell'attribuzione appunto degli incentivi secondo quanto previsto dalla disciplina della contrattazione collettiva. Che cosa significa questo? che il principio del risultato è criterio prioritario nell'esercizio del potere. Quello che abbiamo detto prima, il risultato è l'interesse prioritario che deve essere garantito nella disciplina della contrattualistica pubblica e questo criterio, il principio del risultato è il criterio che noi dobbiamo utilizzare per valutare la responsabilità del personale. Quindi stiamo parlando di responsabilità, pensiamo alla responsabilità in primo luogo contabile, responsabilità amministrativa da parte del funzionario e anche la responsabilità di carattere disciplinare del funzionario stesso. E qui diciamo c'è il risultato diventa quasi si erge al parametro di legittimità appunto dell'azione di questi soggetti. È una giustificante, unesimente, un concetto o comunque un obiettivo che deve essere valutato ogni volta che noi consideriamo l'attribuzione degli incentivi e la responsabilità appunto del personale. Quindi l'indicazione che deriva per ogni operatore dell'amministrazione da questa norma, dall'articolo 1, che è meglio fare male piuttosto che non fare in tempo oppure non fare affatto. E diciamo quindi che questa disciplina è proprio perfettamente conforme a quella logica, a quel contrasto alla burocrazia difensiva che si è poi sostanziato anche nella cosiddetta paura della firma. E per questo motivo il principio del risultato si rega sinergicamente anche con l'altro principio che adesso andiamo a vedere che è il principio della fiducia. Bisogna comunque notare che in questo articolo il discorso del principio del risultato ci sono ancora alcune anomalie presenti appunto nella disciplina perché il principio del risultato ci dice il comma 3 costituisce un modo per attuale il principio di livello costituzionale questa volta del buon andamento e ci dice altresì la norma che sono articolazione del principio del buon andamento, si citola l'articolo 97 della Costituzione e anche i correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità che erano già richiamati dalla precedente disciplina. Tuttavia qui forse l'aspetto un po' singolare e ci dice la disciplina che questo principio del risultato non è perseguito solo negli interessi della comunità ma serve anche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea. E qui forse c'è questa indicazione che dimostra una certa ritrosia da parte del legislatore che aveva per tanto tempo valorizzato la disciplina della contrattualistica pubblica come veicolo per attuazione di diverse politiche dell'Unione Europea di continuare a considerare questa disciplina e quindi declinare anche il principio del risultato e il rapporto a questi obiettivi della comunità. Ciò che è sicuramente rilevante è che anche per effetto di questo principio del risultato si dovrebbe comunque abbandonare quel processo di eterogenesi dei fini per cui la concorrenza era fine e non strumento della disciplina sulla contrattualistica pubblica. Oggi sicuramente la concorrenza non è più posta a tutela dell'interesse dell'operatore economico ma ci dice il secondo comma che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a garantire il miglior risultato possibile nell'affidare e nell'eseguire il contratto. E questo principio del risultato lo vediamo che ha avuto effetti e lo vedremo adesso a breve anche nel particolare modo di declinare la concorrenza anche nel contesto in contesti particolari come quello dei servizi sociali in quanto il principio della concorrenza non è più un principio superiore agli altri ma è un principio che deve essere contemperato anche con altri principi come quello della sussidiarietà e della solidarietà. Quindi questo principio del risultato viene considerato ormai del più come quasi la madre di tutte le riforme tant'è che qualcuno dice che tutta l'amministrazione tutta l'operatività dell'amministrazione dovrebbe conformarsi a questo principio del risultato perché è l'unico che può garantire l'effettività una legalità sostanziale che garantisca l'effettività delle posizioni e dei diritti rappresentati. Ma vediamo che ci possono essere alcuni aspetti e questi qui vedremo soprattutto sugli affidamenti sotto soglia che sono potenzialmente problematici che si collegano proprio alla valorizzazione di questo principio del risultato. Proprio il rapporto alle ricadute che ha rispetto ai singoli il principio del risultato assume rilevo solo se si lega sinergicamente ad un altro principio che è quello della fiducia. Perché proprio questo principio è quello che dovrebbe determinare nei fatti il superamento di quella cultura del sospetto di cui era la razio esplicatrice della precedente riforma. e qui il problema è che questa riforma pur cambiando totalmente approccio doveva essere in grado di eradicare le caratteristiche della precedente disciplina che aveva ormai formato una serie di funzionali pubblici che erano ormai intenzionati a eliminare a ogni margine di discrezionalità rispetto appunto alle proprie scelte. Quindi come controaltare ad una disciplina che prevedeva ogni esclusione di discrezionalità della disciplina bisognava appunto introdurre un elemento che potesse consentire il superamento di quella logica del sospetto per sradicare proprio un modo consolidato di pensare. E io molti operatori economici, l'amministrazione è vero che si nascondeva dietro la burocrazia difensiva. ma spesso anche consulenti, anche io stesso, nel suggerire determinate soluzioni si suggeriva sempre l'opzione più cautelativa che poneva l'amministratore o il funzionario al riparo da ogni forma di responsabilità. L'obiettivo del principio della fiducia è quello invece proprio di invertire quest'ordine di idee e di creare una vera e propria rete di protezione in favore dell'amministratore che agisce perché ciò che si teme o che si temeva si è detto è che l'amministratore e il funzionario fosse diciamo succube e prigioniero di questa sindrome di Stoccolma per cui è stato abituato per tanto tempo ad agire, a vedere nel sospetto in qualsiasi formula di affidamento che quindi si trova un po' perso rispetto alle nuove libertà consentite dall'approccio del nuovo codice e in questo senso il principio della fiducia è quello che proprio vuole dire al pubblico dipendente al funzionario dell'amministrazione che opera all'interno della contrattualistica pubblica andate e contrattate liberamente che non vi succederà nulla perché siete tutelati da questo principio della fiducia. Perché cosa dice la norma? L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia negazione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionali e degli operatori. Ossia questo principio della fiducia è una fiducia reciproca rispetto a tutti gli operatori economici quindi anche rispetto e vediamo che anche questo principio della fiducia può essere declinato in attività come il soccorso istruttorio che è espressione della fiducia e il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale appunto dei funzionali pubblici secondo il principio del risultato. Qui cosa che si vuole valorizzare? Si vuole valorizzare proprio la capacità di scelta dell'amministratore che sempre secondo la logica di stampa aziendialistica dell'amministratore nel settore della contrattoristica pubblica ciò di cui deve preoccuparsi non è di evitare un'eventuale responsabilità ma è quello proprio di garantire la stipula del contratto stesso. E in questo modo per esempio le cadute pratiche di questo principio si possono avere anche negli istituti degli indagini dei mercati che adesso hanno una valenza puramente istruttoria nel senso non sono parte di un procedimento competitivo e di selezione del contraente però il principio della fiducia vuole valorizzare proprio l'iniziativa e l'autonomia di questi funzionali che nella risoluzione e nell'affidamento dei contratti pubblici devono potersi adoperare autonomamente per garantire diciamo le soluzioni più efficienti nell'interesse dell'amministrazione. E proprio conferma che si tratta di una misura introdotta per alimentare la capacità decisionale del pubblico dipendente e la stessa arregazione che collega questo istituto, questo principio della fiducia ha la necessità di superare la cosiddetta paura della firma ed è quindi strettamente collegato anche con la nuova formulazione dell'articolo 323 del codice penale che era aggiunta proprio nel 2020 in cui si è intervenuto sui presupposti per integrare il reato dell'abuso d'ufficio perché adesso si chiede che sia adottato in violazione che la condotta per integrare l'abuso d'ufficio sia adottata in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalle leggi o da atti, aventi forse di leggi e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. Quindi in questo senso la norma facendo il paio appunto con la disciplina con il principio della fiducia tendono a evitare che alcune condotte possano, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza possono essere utilizzate per ricondorre delle eventuali legittimità che integrerebbero unicamente dei fenomeni di eccesso di potere all'interno del reato di abuso d'ufficio che avrebbe l'effetto non voluto di creare un immobilismo l'azione dell'amministrazione e quindi evitare che si pervenga alla stipula di un contratto. Questo articolo 2 che contiene quindi il principio della fiducia e quindi che è un mezzo per garantire l'effettività appunto del principio del risultato però si compende anche di altre disposizioni che muovono nel senso opposto e che però sembrano sempre essere orientate e condizionate dalla specificità di quell'obiettivo e del risultato da raggiungere attraverso lo strumento della contrattualistica pubblica perché nell'articolo 2 dedicato al principio della fiducia la norma chiarisce anche cos'è che costituisce colpa grave ai fini appunto della responsabilità amministrativa ossia della responsabilità davanti appunto alla Corte dei Conti per danno eragiale e chiarisce che costituisce colpa grave ad esempio la violazione degli atovincoli che si è posta alla stessa amministrazione per esercizio della propria attività nonché la violazione di quelle regole di prudenza che sia parese e che sia esigibile nei confronti dell'agente pubblico delle funzioni che in base al caso concreto l'agente pubblico è chiamato a svolgere qui sostanzialmente la norma vuole chiarire chiarisce cos'è che costituisce colpa grave e al contempo però ne limita anche la portata della colpa grave perché conformandosi ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Conti abbastanza consolidato ci dice anche che non costituisce colpa grave la violazione o commissione che sia determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti perché qual era il rischio? Il rischio è che l'operatore economico il funzionario, l'operatore dell'amministrazione e il funzionario non si conformasse ad un determinato orientamento giurisprudenziale per il timore di incorrere in colpa grave o non si conformasse a un parere perché riteneva che potesse essere la matrice poi di una sua responsabilità qui la norma chiarisce che se il funzionario sta agendo in forza di un orientamento giurisprudenziale prevalente o basa ad un parere delle autorità competente e sicuramente non ricade nell'ipotesi di colpa grave quindi non sarà sanzionabile di fronte alla Corte dei Conti per questa condotta ovviamente trovata la norma trovato l'inganno nel senso che anche in questo caso poi bisognerà capire come si fa a definire se si tratti di un indirizzo giurisprudenziale che sia effettivamente prevalente o meno perché quando è un indirizzo della donanza penale del Consiglio di Stato affermarne la prevalenza è semplice però può darsi che rispetto a specifiche vicende vi siano indirizzi che possono indirizzi e contrasti giurisprudenziali per cui alcuni giudici possono seguire un approccio e altri giudici ne possono seguire un altro e anche qui è singolare sempre che venga inserito nell'ambito del principio della fiducia quelle disposizioni che ai sensi del colpa 4 dovrebbero essere funzionari a garantire una copertura assicurativa per i rischi del personale perché qui ci sta anche un problema forse di coordinamento con le precedenti discipline che ritenevano che la stipula del contratto di assicurazione per tutelarsi di fronte al rischio di responsabilità amministrativa costituisse esso stesso fonte di responsabilità amministrativa perché è contrario ai principi del coordinamento e qui c'è un'inversione di tendenza da parte appunto dell'ordinamento perché proprio per garantire il risultato rafforzare la fiducia dell'operatore economico sulla legittimità della propria azione ossia sul senso che non verrà perseguito sull'idea se non verrà perseguito se agirà le amministrazioni dovrebbero adottare le azioni per garantire la copertura assicurativa dei rischi del personale invece ciò che è probabilmente più problematico è che le stazioni appaltanti sono chiamate anche a rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti compresi i piani di formazione previsti appunto dal successivo articolo 15 e qui forse c'è l'obiezione di principio che si può muovere a questa riforma che questa valorizzazione del principio del risultato al principio appunto della fiducia deve fare i conti con un contesto in cui effettivamente gli amministratori, i funzionali e i dipendenti che fino ad oggi si sono interfacciati alla disciplina della contrattoristica pubblica hanno proprio sviluppato un modo di pensare che non li rende inclini a perseguire delle formule per esempio di affinamento diretto quando ciò siano consentite e quindi probabilmente visto che si tratta di soggetti che dovranno proprio operare e procedere con affidamenti che prima non potevano essere effettuati direttamente forse questa riforma dovrà essere preceduta da dei piani di formazione dovrà essere preparata diciamo proprio per garantire che gli operatori economici da oggi a domani non si trovino in un contesto diametralmente opposta prima venivano sanzionati se non osservavano i criteri più radicali della più radicale procedimentalizzazione nell'attività di selezione del contenente oggi sono potenzialmente sanzionabili ad esempio se ricorrono a procedure aperte in ipotesi che non sono previste dall'ordinamento però questo qui lo vedremo anche meglio nel corso del prossimo incontro sugli affidamenti sotto soglia sicuramente questa riforma questo principio della fiducia affiancato al principio del risultato doveva essere comportando una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare la disciplina della contattonistica pubblica doveva essere preparata con dei piani formativi per non lasciare diciamo i funzionali alle loro sorti a fianco al principio della fiducia e del risultato l'altro principio che abbiamo visto abbiamo anticipato caratterizza la disciplina in questione è quello dell'accesso al mercato e qui la disciplina è abbastanza chiara nel ricordarci che l'accesso al mercato che le amministrazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto appunto dei principi di concorrenza di imparzialità e di non discriminazione di pubblicità e di trasparenza di proporzionalità ossia sono gli stessi principi che abbiamo visto che caratterizzavano che caratterizzavano anche il precedente assetto assetto istituzionale ma in questo contesto l'accesso al mercato sembra sembra più che altro un obiettivo che deve essere garantito attraverso la funzionalizzazione di questi principi generali già richiamati ossia tutti questi principi la correttezza imparzialità non discriminazione pubblicità e proporzionalità devono essere funzionali a garantire l'accesso al mercato e quindi perché il principio in questione diciamo risponde sempre all'esigenza di conservare comunque un mercato concorrenziale in cui gli operatori economici abbiano delle pari opportunità di partecipazione e quindi di accesso alle procedure ad evidenza pubblica ossia è vero che si persegue l'obiettivo del risultato ma ciò non lo si fa a discapito di una totale non coeranza delle esigenze appunto della concorrenza soltanto che queste esigenze della concorrenza come ci diceva anche l'articolo 1 del codice sono sempre piegate all'esigenza di garantire il risultato dell'affidamento appunto del contratto allora questi come detto sono i tre principi di carattere generale i principi gerarchicamente sovraordinati alla stregua dei quali devono essere interpretate le disposizioni del codice però con parallelamente a questi principi sono stati anche formalizzati altri principi che sono prevalentemente dei principi già ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza che sono stati però tradotti in specifiche norme che ne ha recepito le indicazioni principali quindi partendo diciamo proprio seguendo l'ordine del codice l'altro principio il primo principio che viene in rilievo è il principio della buona fede e di tutela dell'affidamento e qui è un principio che evidentemente si pone in sintonia con il principio della fiducia che abbiamo visto poc'anzi perché l'articolo 5 del codice ci dice che nella procedura di carri le stazioni appaltanti gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento raffrontandolo rispetto al principio della fiducia abbiamo visto il principio della fiducia operava su due aspetti quello dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto e operava anche nei confronti di soggetti sempre le amministrazioni funzionali e gli operatori economici però i veri beneficiari del principio della fiducia era pensata a tutela di una particolare categoria ossia i funzionari che erano ossia coloro che dal lato dell'amministrazione erano chiamati all'applicazione delle norme invece questo principio di buona fede e di tutela dell'affidamento è un principio che per come è declinato nell'articolo 5 opera solamente nella fase appunto della gara e per quanto venga riferito tanto all'amministrazione come agli operatori economici vede quali i beneficiari della sua applicazione proprio gli operatori economici ossia i concorrenti che partecipano alla gara stessa e qui il concetto di buona fede che viene adottata appunto dalla disciplina è quello storico che poggia appunto sulle evoluzioni appunto del diritto di diritto romano ed è un concetto che è stato rapidamente steso ai rapporti contrattuali di stampo paritario proprio per il rapporto a quelle obbligazioni che prevedono un'esecuzione differita e che quindi potrebbero comportare diciamo un maggior margine di discrezionalità nell'esecuzione della prestazione qui si può dire tranquillamente che il principio di buona fede è sicuramente un'articolazione appunto del principio appunto della della fiducia e a sua volta la tutela dell'affidamento è un'articolazione del principio della buona fede che cos'è la tutela dell'affidamento e la diciamo una situazione che è generata da un'aspettativa sulla legittimità della condotta della pubblica amministrazione quindi nell'ambito del procedimento di gara anche prima della giudicazione perché non commette il principio questi principi sono legati proprio alla fase precontrattuale appunto di gestione prima della stipula del contratto sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede quindi non solo c'è una presunzione di legittimità sull'esercizio del potere ossia c'è una situazione che viene generata dal fatto che io posso ritenere che l'amministrazione ha operato legittimamente ma anche sulla conformità del comportamento amministrativo quindi anche diciamo quelle attività della pubblica amministrazione che non sia stata formalizzata in un provvedimento vero e proprio per esempio contatto l'amministrazione e gli chiedo ma quando è il termine l'amministrazione mi dà una determinata indicazione oppure l'amministrazione risponde alle cosiddette facche in sede distribuola della gara deve rispondere e deve conformarsi al principio di buona fede anche nelle fasi per contrattuale queste conseguenze del principio di buona fede sono anche diciamo dettagliate ulteriormente in una disciplina che sicuramente non può essere considerata come disciplina di principio ma è una disciplina che raccoglie delle indicazioni giurisprudenziali che hanno state già formulate da tre adunanze plenarie la 19 la 20 e la 21 del 2021 che si erano preoccupati proprio appunto di definire alcuni aspetti della tutela delle conseguenze legate alla tutela dell'affidamento e si tratta più nel dettaglio di indicazioni che provengono nel caso di aggiudicazione annullata in autotutela sul ricorso dei terzi e in questo caso si dice siccome quello che è tutelato non è l'affidamento in sé ma è il legittimo affidamento e quindi si considera l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla dirigenza professionale richiesta ai concorrenti in questo caso cosa si vuole dire sostanzialmente che il legittimo affidamento non è tutelato o meglio non è un affidamento legittimo se c'era un'ipotesi un'ipotesi in cui questa illegittimità della giudicazione poteva essere facilmente riscontrabile con l'ordinaria dirigenza professionale che si assume debba essere richiesto ai concorrenti ossia se per esempio io sono consapevole che mi è stato affidato un contratto per esempio in assenza di DURC di cui ho magari autocertificato il possesso o in presenza appunto di altri elementi che comunque erano riconoscibili o dovevano essere tali secondo la diligenza richiesta all'operatore economico nei casi comunque in cui poi l'aggiudicazione viene revocata il danno da lesione dell'affidamento il danno quindi per l'impresa che è stata che è l'affidataria del contratto che poi è stato in autotutela appunto annullato o annullato sul ricorso dei terzi è limitato solamente ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati connessi all'interferenza del comportamento scorretto dell'amministrazione quindi si dice sostanzialmente il danno è comunque limitato all'interesse negativo al mancato guadagno legato a questa attività che ha comportato il legittimo affidamento e però la parte più innovativa di questa disposizione sul principio di buona fede di tutela dell'affidamento è quella perché questa prima parte risponde ad una limitazione della responsabilità della pubblica amministrazione però c'è anche una seconda parte che è quella definita dal comma 4 dell'articolo 5 che invece pervede un'estensione della responsabilità dell'amministrazione perché legittima sotto il profilo normativo un potere derivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti appunto dell'operatore economico che abbia concorso a determinare legittimità appunto dell'affidamento e quindi questa è una portata sicuramente innovativa della disposizione che però si rega sinergicamente proprio con il principio della buona fede perché si assume che l'operatore economico si sia discostato appunto da quel principio allora vedo che si è già collegata Maria la dottoressa Russo ecco per facciamo la parte di esattamente quindi allora io a questo punto mi fermerei quello tanto recuperiamo nel prossimo webinar alcune parti sui principi che devono essere affrontate io a questo punto se ci sta qualche indicazione qualche domanda se c'è tempo rispondiamo adesso se no risponderemo nel corso raccogliamo le domande e rispondiamo nel corso della prossima settimana io faccio la parte della cattiva non ti volevo interrompere Giovanni però appunto siamo in chiusura perché appunto fra due minuti chiudiamo il webinar quindi quindi non non sono pervenute delle domande io spero che appunto non sia stato un webinar a una via nel senso che la nostra intenzione è quella di dare un taglio sicuramente più pratico nei prossimi appuntamenti però come ha sottolineato l'avvocato Caruso era importante fare un escursus sui principi perché sono appunto il core di questo nuovo codice e perché poi logicamente vanno ad influenzare tutta la tematica anche a livello operativo quindi è chiaro che è importante anche un cambio culturale correggimi se sbaglio quindi di conseguenza è utile approfondire quindi se necessario anche dedicarci e ritornarci su diversi aspetti e quindi su alcuni dei principi che sono stati enunciati oggi come appunto quello del risultato di cui appunto abbiamo terminato da qualche minuto di parlare proprio per questo motivo perché poi va a modificare un po' tutto l'approccio che si ha di questa tematica allora io vedo che diciamo allo scadere del gong si stanno scatenando i partecipanti allora vi vorrei chiedere però visto che l'arco temporale diciamo di riferimento del webinar era appunto di due ore c'è una mail con la quale avete avuto tutte le indicazioni per partecipare a questo webinar se ci fate pervenire tra subito e la prossima settimana tutte le richieste che ritenete così che poi appunto con l'avvocato Caruso che ricordo che comunque è un esperto a disposizione dell'assistenza tecnica che appunto l'assistenza tecnica del Formez mette a disposizione i responsabili unici dell'attuazione e dei controlli di primo livello e quindi noi per il tramite dell'autorità responsabile del PSC possiamo attivare l'avvocato Caruso per tutte le questioni relative al PSC 2000-2020 quindi questo io lo ricordo sempre quando periodicamente realizziamo questo tipo di webinar che sono appunto dei webinar di affiancamento, di supporto oltre che appunto di formativi e informativi quindi vi prego di farci arrivare tutte le vostre domande a questo punto tramite mail grazie mille ed eventualmente anche di confrontarvi con i nostri referenti dell'assistenza tecnica che poi conoscete grazie a tutti